Uuuuh! Andatevi! Trevati! Io sono qui! Uuuuh! Continuiamo! Tutti! Vieni! Vieni! Dammi! Evolusco! Evolusco! Uuuuh! Partita! Partita la terza edizione! Questa Genos Solis e Vitti! Avvia sono 150, PPR! Onnetevi! Guarda! Giorno sarà 3 Giriti! Guarda per te! Sii guardo qui! Mossa che sei l'ultimo! Iii! Vai! Losi! Iii! Qui, extrema! Germani Giovanni, fettorale numero 2, Atletica Cebrano. E ancora con il numero 90, transita qui per il primo giro. Camilli Luca, Atletica Città dei Papi e con il numero 65 per l'Atletica Torreferro, Masella Luigi. E poi Ivan Tozzi con il 115 e transita con il numero 4, la prima donna in seguito dal numero 128. Irene Runza con la valle di operazione per l'Atletica Torreferro. Seguì da breve distanza dal numero 128, Gattietti Panela. E ancora primo giro, primo giro, numero 77. Passaggio primo giro. Primo giro e passa anche la numero 139. Primo passaggio, Piazza La Venzia. Cora due passaggi per Gattelli. Che transita non è in questo momento. 104 primo passaggio grazie mille numero 35 sinagatola radica evoluciona felice vincenzo grazie mille numero 38 di Cozzi Alessandro ecco lì nel 199 guardati sul piano Gim se sali grazie mille numero 38 grazie mille numero 38 grazie mille numero 38 grazie mille numero 38 Enzo Orsinger Passaggio per la numero 95 di Francia a Donatella è a chiudere il nostro amico numero 16 Siamo in attesa del passaggio del par di strada sarà il secondo giro per loro Attenzione, attenzione perché ha preso il largo Vengono a Donatella, passa in solidarica in secondo giro Eccolo qui A sorpresa si presenta al secondo passaggio per la dedica Ceprano, Giovanni, seconda posizione Ed eccolo l'altro atleta di Olevano Romano, Simonetti, Salvatore Iscritto in gara con la Running Evolution in terza posizione Ed eccolo qui, lui è di Subiaco Fabrizio Vannoli, marciatori Simbruini al passaggio Quarta posizione per lui E con il numero 89 transita in questo momento Mastroianni Roberto Mastroianni Roberto 162 Minotti Roberto Atletica Frosinone, ottava posizione E transita in numero 15 Non ha posizione per lui Si tratta di Carnevali Umberto Iscritto in gara con la Running Evolution Il suo paese con il numero 1 Viten Milana Genus Sabi Silvetti Vittoria per lui E' la prima vittoria E' ancora 3 Passaggio per la 124 Ragazzi facciamogli un grande applauso Giovanni Germani Atletica Cebrano Con il ventorale numero 2 E' il secondo posto di Cassivica per lui Un grande applauso Simonetti Salvatore Terza posizione per lui Ancora un errore L'attivazione velocissima Con il numero 89 Si raggiudica la quarta posizione assoluta E attenzione quinta posizione per Fabrizio Vannoli Marciatori Simbruini Quarta posizione di Catuscolum Arriva anche il 160 Emanuele Marci Settima posizione per lui E' 162 Finisce la sua fatica Eccolo qui Ottava posizione Garibani Umberto Per la Running Evolution Arriva anche il numero 90 Decima posizione per lui Con il numero 90 Camilli Luca E' il numero 87 Undicesima posizione E' il numero 4 Atletica Coneferro Direno Runza Si aggiudica il primo posto Numero 140 Massimo ancora numero 48 All'arrivo Seconda posizione Per lei Andorio Nel numero 128 Gabrielli Pamela Ready Runners Foodwalk Direno Accima Sperf Sperf Cornish Sperf Abbrafat Sperf Sperlogo Tutsi Sperf Vi Ass Grazie a tutti.